Ciao bambole, allora eccomi qua con un nuovo video e in questo video sono particolarmente felice perché una ragazza mi ha voluto mandare alcune cosine e quindi sono particolarmente felice allora il pacchetto me l'ha mandato tipo penso due settimane fa, ora lo ricordo benissimo io ero impazientissima di ricevere questo pacchetto perché lei è una ragazza a parte che è veramente una ragazza d'oro io ce l'ho anche nelle mie amicizie private su facebook perché è una ragazza che merita veramente tantissimo e questa ragazza si chiama Celeste Bichur a cui mando un grande bacione allora Celeste realizza Bichur fatti a mano e devo dire che sono bellissimi allora oggi mi è arrivato il pacchetto qui dentro, era stracolmo di cosine, io non me lo aspettavo minimamente sono rimasta a bocca aperta, tutte le cosine sono messe tutte qua dentro nei pacchetti e ora mano a mano io ve le faccio vedere allora innanzitutto volevo ringraziare ancora tantissimo Celeste perché sei stata davvero gentilissima io ogni volta che voi mi chiedete di darvi il mio indirizzo perché volete mandarmi dei pensierini mi sento sempre tantissimo a disagio perché comunque non lo so è una cosa che mi fa un po' vergognare però poi alla fine voi insistete e a me mi piace pure essere coccolata da voi raga quindi che vi devo dire io più che ringraziarvi, mandarvi tantissimi baci davvero non so proprio che fa perché mi mettete in imbarazzo e Celeste amore sei stata veramente carina, io ti adoro mi piacciono dalla prima all'ultima, non so sono rimasta senza parole allora mi ha mandato anche questa bustina che è una bustina con la clip carinissima per metterci tutte le cose dentro e anche i suoi biglietti da visita comunque vi metto qui una foto adesso con il suo bigliettino da visita in modo che potete andarla a cercare anche su Facebook comunque vi lascio giù nell'info box la pagina di Celeste comunque si chiama Celeste Lupo Bijur e su Facebook è J'adore le Bijur comunque non vi preoccupate vi lascio tutto qui sotto allora cominciamo subito ah no prima volevo dirvi che un'altra ragazza mi ha voluto regalare questi orecchini qua di Chanel e l'anellino in abbinato io li adoro quando mi sono arrivati a casa sono rimasta praticamente a bocca aperta perché io adoro Chanel e tutte queste cosine mi piacciono da morire amore ti mando un bacione grosso grazie tu sai chi sei ma purtroppo vuoi rimanere in anominato in anominato? come si dice? vabbè in anonimo non voglio dire il tuo nome però tu sai chi sei e ti mando un bacione grazie ancora e niente dai cominciamo subito con i gioielli che mi ha inviato Celeste il primo gioiello che io sono rimasta a bocca aperta perché non lo so sembra che lei mi conosca da una vita ha azzeccato i miei gusti in pieno è questa collana qua ragazzi che cos'è questa collana? cioè bellissima guardate un po' aspettate levo i capelli da davanti allora guardate che cos'è sta collana raga allora come avrete visto adesso dalle immagini questa collana è una cosa di pazzesco cioè brilluccica da morire ha tutte queste pietre celesti che a me il celeste poi mi piace tantissimo e anche il colore preferito di Alessio infatti anche Alessio è innamorato gli è piaciuto tutto ma quando ha visto questa se ne è follemente innamorato e credo proprio che me la metto per il nostro anniversario con Alessio cioè non so se si dice anniversario vabbè sono due anni che stiamo insieme e quando famo muo adesso fra un po' due anni me la metto e è bellissima ragazzi proprio una cosa fenomenale la seconda cosina che mi ha mandato sono questi orecchini qua allora ragazzi ditemi che questi orecchini non sono un qualcosa di fenomenale cioè guardate un po' bellissimi lei ha azzeccato praticamente tutti i miei gusti perché io li adoro ve li faccio vedere bene nel dettaglio sono fantastici e la terza cosina che mi ha mandato è questo braccialetto fantastico fenomenale io lo amo e è bellissimo è fatto così a maglie e poi ha la Torre Eiffel aspettate se ci riesco aspettate ha questo fiocchettino bellissimo a righe bianco e nero poi ha la Torre Eiffel e ha anche attaccata una coccinella porta fortuna e ragazzi questo bracciale è veramente bellissimo perché io adoro i ciontolini adoro tutti i frongeli è una cosa meravigliosa poi un altro bracciale che mi ha mandato e sono rimasta scioccata perché mi piace da impazzire è questo qua in oro e in verde ragazzi è bellissimo questi vanno tantissimo di moda adesso con tutte queste maglie e io lo adoro follemente devo dire che mi ha mandato tutte cose bellissime ci sono rimasta veramente tantissimo bene non me l'aspettavo perché quando lei mi ha detto ti mando un pacchettino ho pensato vabbè capito mi mandasse che ne so un orecchino e invece è stata veramente generosissima e l'adoro il bracciale nel dettaglio è questo ha tutte queste maglie e è bellissimissimissimo poi ultima cosina che mi ha mandato e io l'ho lasciata per ultima perché io adoro e anche devo dire la prima cosuccia in fimo che ho è questo bracciale con tutti i gioiellini di MAC in fimo MAC Chanel la matitina ragazzi questo bracciale io lo adoro è pazzesco bellissimo non lo so è una cosa bellissima ve lo faccio vedere nel dettaglio ha questa matita occhi nera poi ha questo rossettino poi lo smaltino Chanel blush e un cuoricino beh ragazzi io adoro 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 questo bracciale veramente bellissimo senza parole sono rimasta veramente contentissima naturalmente Celeste mi ha anche mandato una letterina con un suo bacino dove io non voglio adesso fa solita che dice mamma mia mi è piaciuta che la letterina che regalo però è vero ragazzi quando ho letto questa letterina sono rimasta commossa sapete che io mi metto davanti a una videocamera e parlo da sola no perché fondamentalmente sto a casa da sola però vedete che ve te la smetto così tanto ragazzi io rimango davvero contenta per me è la cosa più bella che mi poteva scrive ma ha scritto delle cose bellissime io amo ti mando ancora un grosso bacione e ti ringrazio tantissimo le cose sono veramente tutte bellissime vi invito ancora a visitare la pagina di Celeste perché merita veramente tanto è bravissima niente dai ragazzi io allora vi lascio vi saluto vi mando un bacione a tutte quante in particolare a Celeste e ci vediamo al prossimo video ciao bambole mua mua